buongiorno ragazze allora oggi primo giorno di scuola e mi sono preparata sono alle 8 meno 10 e quest'anno si entra alle otto e mezzo non più l'otto e un quarto meno così dicono per quanto riguarda il trucco fatto un trucco molto semplice volevo fare un po il trucco di clio che ha fatto per la scuola però non trovo colori quindi ho fatto un po con il quasi rosa diciamo un rosa più chiaro nella parte interna è un più scuro nella parte esterna eyeliner mascara fonda tinta cipria dopo ho messo il blush e la terra i capelli sono leggermente ondulati anche se ieri ho fatto la piastra andrebbero bene anche così però voglio un po lisciarli con la mia bella piastra e oggi andiamo alla casetta come il primo blog che ho fatto e quindi mangeremo lì e dopo non so forse andremo al mare però non è sicuro quindi niente ci vediamo dopo e buon primo giorno di scuola a tutti ciao allora siamo in classe in classe fisica e viene dopo quindi praticamente oggi non facciamo niente ma non facciamo niente comunque ci vediamo dopo ciao ciao allora la volta presidente ora questo l'esco questa volta invece sentiamo di aprire sentiamo di aprire il tavolo l'esco Allora, poi la beve dalla cannucca, poi abbiamo le fratte, l'insalata, poi le cannucce, quindi la beve dalla cannucca, poi l'acqua, poi la bollirà, poi la bollirà. ah è come prima manciamo le cacardelle con i figli ciao non c'è un naso però vai oddio allora raccontiamo dove è la telecamera? eccola qua allora raccontiamo cosa abbiamo fatto io sono un mito perché abbiamo un bambino grandissimo è bellissimo noi stiamo nel banco insieme io no io sto con la quarta ginnazio e abbiamo un banco enorme però non è il peggio c'è sotto il banco io vivo con i sotto banchi i piccoli sotto i banchi i piccoli sotto i banchi me l'avevi detto va bene allora stavo per mangiando è venuto filosofia però non abbiamo fatto niente poi è venuto greco non abbiamo fatto niente questa cosa è domani non facciamo niente c'è sotto il naso enorme come una bolletta ma senta mo ti faccio come quella la agoterapia la bollettaterapia non faccio come una bolletta non faccio come una bolletta non faccio come una bolletta le ore che dà molletto è scicca va vero non è scicca forse mangiamo dai e ci vediamo dopo quando mangiamo ok ciao allora è pomeriggio diciamo che non scappiuccio niente è pomeriggio poi le altre stanno tornando andiamo con questa matita aspetta abbiamo già provveduto ad appendere le scarpe e poi andiamo a fare o baffi o comunque qualcosa che si può fare andiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono quasi tutta struccata, sono stanchissima, non ho mangiato tanto e a scuola praticamente non c'è nessuna nominità, insomma niente di che. E comunque nonostante tutto è stata una bellissima giornata, grazie alle mie amiche e adesso mi strucco, voglio montare questo video in modo in Italia che domani possa caricarlo. E niente, leggo un po' i messaggi che mi mandate e poi ceno, anzi no, non c'ero perché ho mangiato troppe cose e vado a letto presto perché domani un altro giorno si fa a scuola. E quindi ci vediamo al prossimo video, vi aspetto al prossimo video, spero che questo vlog vi sia piaciuto e comunque che vi sia divertita a vedere quello che è successo in questa giornata. Alla prossima volta, al prossimo video, anzi, ciao!